Nel campionato di A1 siamo arrivati all'ultimo atto per l'assegnazione dello scudetto. Domani, prevista gara 1 della finalissima tra Napoli e Meta Catania, una delle due squadre potrà festeggiare il titolo di campione d'Italia. Martedì sera, in gara 3, la squadra partenopea ha avuto la meglio su quella piemontese con il finale di 4-5 al termine dei tempi supplementari. 3-3 il finale nei 40 minuti effettivi, nell'extra time, succede di tutto avanti i torinesi con Fabio Tondi, portiere campobassano che realizza dalla sua porta. Poi la rimonta del Napoli, prima la sfortunata autorete di Cuzzolino, poi a due minuti dalla fine, prima il palo di Vidal per i neroverdi sulla ripartenza. Salas al centro per Borruto che in scivolata manda in estasi gli azzurri, mentre il Catania aveva già staccato il pass in gara 2 grazie al doppio successo contro il Pesaro, prima in terra siciliana, poi a domicilio contro i Biancorossi di Scarpitti. Chiosa proprio sul Pesaro, per il tecnico Sernino, quella da poco conclusa è stata una stagione assolutamente positiva. Dopo la salvezza maturata e play-out nello scorso torneo, i marchigiani dovevano ripartire dal basso per costruire una squadra che potesse puntare ad un campionato diverso rispetto a quello precedente. Ebbene Scarpitti e i suoi ragazzi sono arrivati ad un passo dalla finalissima per lo Scudetto al termine di due gare tiratissime contro il Catania dopo aver eliminato a sorpresa la capolista indiscussa del campionato l'Olympus Roma ai quarti di finale. Complimenti anche per il pivot campobassano Umberto Caruso, autore di tre reti nella serie delle finali e per il brasiliano Matteus Barrichello che alla sua prima stagione in A1 ha messo a segno tre reti solo nella semifinale Scudetto contro il Catania. Per Scarpitti dovrebbe arrivare il rinnovo da parte del Pesaro, ricordiamo, una delle società più titolate d'Italia. L'accordo sembrerebbe ad un passo. Il Cusmo Lise si sta muovendo per la nuova stagione. Come anticipato nei giorni scorsi, la società d'Ateneo avrebbe già strappato un sì alla divisione Calcio A5 per il ripescaggio in A2 Elite. Certo, siamo appena ad inizio giugno, tutte le carte sono ancora da preparare ma l'indicazione sembra essere in tale ottica. Una notizia importante per l'ambiente cussino per rientrare nella seconda serie nazionale dopo un'annata negativa. Intanto sono arrivate le prime due conferme per l'anno prossimo. Nathan Zimbabwe e Carlo Denisco vestiranno ancora rosso-blu. Due giovani in grande crescita che hanno dimostrato il loro valore nel corso della stagione hanno subito incassato l'ok della società per la prossima avventura. Inoltre rientra alla base il pivot Lucas classe 2001 reduce da una stagione di stop per un grave infortunio. Un giocatore di grande affidabilità pronto a ripartire con la maglia del Cusmo Lise e non poteva mancare la conferma anche del capitano Antonio Di Stefano, vera colonna del club, pronto a riscattarsi insieme ai suoi nuovi compagni dopo una stagione come detto assolutamente negativa.